E' un anno fa quando in questa sala abbiamo incontrato i familiari delle vittime della violenza politica e criminale dell'ultimo quarto di secolo, c'era un clima molto diverso da oggi e la principale novità di questi dodici mesi è rappresentata da una persona che, Michele Polo ce lo potrà dire meglio, insomma era di casa e penso che è di casa da queste parti e penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro all'identikit. Cosa c'entra la situazione politica con questa serata? Secondo me c'entra e vorrei dirlo veramente in due parole prima di dare la parola agli ospiti. Il 23 gennaio dell'anno scorso la Fondazione Francesca ha fatto sedere intorno a questo tavolo e credo fosse la prima volta che succedeva uomini e donne che hanno vissuto, diciamo così, una brutale perdita di un loro familiare. Li legava una sola caratteristica ed era che avevano trasformato il dolore da un fatto privato a un impegno pubblico, ancorandosi alla forza incommensurabile che ha la Costituzione, cioè le regole comuni, le regole che ci tengono assieme. in altre parole il rancore aveva ceduto il passo al civismo. Sono convinto che la Fondazione Franceschi avesse avuto in mente quel tipo di serata con quegli ospiti, con quelle caratteristiche perché sentiva che nell'aria c'era area di smantellamento della Costituzione. Un anno dopo questo allarme mi sento di poter dire che è meno presente. Le forze politiche che mettevano la modifica della Costituzione al loro ordine del giorno non sono più direttamente al governo. Pericolo scongiurato? Insomma, chi ha fatto la resistenza ci ricorda sempre che ogni conquista non è mai per sempre. La crisi economica di questi mesi, secondo me, fornisce nuove questioni. Non io che non ne ho la competenza, ma ci sono tanti costituzionalisti, ne abbiamo qui una giovane che poi magari ci dirà cosa pensa di questo tema, si sono interrogati in queste settimane pubblicamente sulla torsione che in questi mesi ha ricevuto la democrazia. per il peso, per esempio, degli esecutivi stranieri sulle scelte economiche. Insomma, la perdita di sovranità è stata oggetto di un dibattito pubblico. Ecco, questo è l'altro elemento, secondo me, di discontinuità che vale la pena di segnalare, cioè che questa discussione si è incanalata nel binario del dialogo, non dello scontro come invece c'era, è della sfida. Allora, il rischio che l'emergenza giustifichi, l'emergenza economica giustifichi l'arbitrio, è sempre in agguato. E una serata come questa, come quella di oggi, ha un doppio obiettivo. Da una parte sottolineare la necessità di vigilanza, ne parlavamo ieri proprio con il maestro Olmi, no? Vigilanza. Vigilare sulle regole della convivenza. Allo stesso tempo costruire un domani senza farsi travolgere da una crisi economica che sta modificando i presupposti democratici che si erano creati nel dopoguerra. La Fondazione Franceschi ha avuto, come dire, la capacità, ancora una volta, di costruire un parterre importante. Io ringrazio davvero il procuratore capo di Milano Edmondo Brutti Liberati, l'avvocato che da sempre ha seguito la famiglia Franceschi, Marco Ianni, il cappellano del carcere minorile, purtroppo non è potuto esserci stasera, ma ci ha inviato una lettera, stiamo parlando di Don Gino Rigoldi, una giovane costituzionalista, Deborah Migliucci, appunto con il maestro Ermanno Olmi. Allora, siccome la serata ha subito tutta una serie di cambiamenti in corsa e siccome la Fondazione Franceschi è perennemente in ebollizione, allora noi stasera dobbiamo spendere due parole per spiegare cos'è, chi sono gli amici della Fondazione. Allora, Marco Ianni, ci aiuti lei a capire di cosa si tratta? E' certo, in un periodo difficile come quello che il Paese, non solo il nostro Paese, ma tutta l'Europa, anzi forse siccome si parla solo di globalità, l'intero mondo sta attraversando, difendere gli spazi della cultura, dell'impegno, come la Fondazione intitolata Roberto Franceschi fa oramai dal 1995, difendere questo impegno richiede un impegno. E in questa prospettiva, con questa visione della necessità di non sedersi sui risultati acquisiti, sul credito di cui oramai la Fondazione gode in tutti gli ambienti della cultura, università, eccetera, nella consapevolezza che non ci si può accontentare di quello che si è ottenuto, finora la Fondazione ha avviato accanto ai suoi progetti delle iniziative, come dire, di consolidamento, che credo che sia giusto, di cui sia giusto riferire in questa occasione. La prima è quella del, che oramai ha più di un anno di vita, del Comitato Scientifico, che raccoglie illustri professori, perché è ovviamente un Comitato Scientifico di professori, non solo il governo, anche la Fondazione ha bisogno di appoggiarsi ai professori, con i quali vengono elaborati i progetti che la Fondazione di volta in volta, nei limiti delle sue capacità economiche, capacità culturali sono abbondanti, ma economiche molto meno, porta avanti. Accanto al Comitato Scientifico, quest'anno, la Fondazione ha creduto, direi senza presunzione, ma come un momento di riconoscimento ulteriore di un suo status ormai forte, soprattutto nei confronti dei giovani, ha creduto necessario raccogliere intorno a sé una testimonianza di amici che, come esponenti della società civile e della cultura del nostro Paese, attestassero la loro vicinanza, la loro solidarietà con la Fondazione e con le sue iniziative. Di questo io volevo riferirvi. Lidia, come presidente della Fondazione, di cui io stesso faccio parte, ha scritto una lettera a numerose personalità della cultura e della società civile e oggi la lettera è partita da poco e oggi sono state già raccolte circa 40 adesioni e tra queste io non penso che sia il caso di dar lettura di tutti coloro che hanno diritto, però tra queste c'è Ermanno Olmi, che ha subito dato la sua adesione, c'è Edmondo Brutti Liberati, ci sono tutti gli autori dei testi che sono pubblicati nel libro e questo ha un significato particolare perché al di là dell'impegno di ciascuno di loro è la testimonianza che sul tema della Costituzione e della difesa concreta dei suoi principi, dei suoi valori, delle sue norme anche, in cui quei valori e quei principi sono consacrati, su quel tema bisogna essere appunto sempre vigilanti. Quindi io comunico il successo di questa iniziativa che contiamo di ampliare ricevendo ancora molte adesioni di cui sarà data poi notizia costantemente sul sito della Fondazione, ma intanto ringrazio chi vi ha aderito e chi è anche presente questa sera. Grazie.